Ciao, siamo degli innocenti, amministratore, delegato, nonché fondatore di Gammata, SRL. Siamo qui al Top Audio 2012, abbiamo fatto un allestimento forse un pochino sui generis con due salette, una saletta che è qui accanto con prodotti demo dove vogliamo pubblicizzare e far ascoltare i diffusori PMC della famosa casa inglese, Professional Monitor Company, e mentre invece in questa saletta l'abbiamo adibita ad incontri B2B con installatori dove vogliamo illustrare tutta una serie di prodotti e di offerte che vogliamo indirizzare al mercato della custom installation. Non rispecchia proprio le necessità della mia azienda, però comunque rimane la fiera più importante e più seguita in Italia e quindi alla fine siamo contenti di essere qui, che fosse solo per incontrare tutto il nostro network di B2B, per rivederci, salutarci e fargli vedere le novità. Novità come quelle della Polk Audio che abbiamo portato quest'anno, è tutta una serie di soluzioni, di diffusori da incasso con vari livelli qualitativi e soprattutto che rispondono a delle esigenze molto particolari. Uno dei miei preferiti sono questa, è la gamma Atrium di Polk, adatta a stare in ambienti esterni, quindi verande, giardini, terrazze, luoghi esterni di ristoranti, alberghi o grossi giardini, grosse ville. Questo è l'oggetto adatto. Il bianco, il nero è verniciabile ed è definata in differenti dimensioni proprio per soddisfare le richieste di pressione acustica sonora di cui uno ha bisogno. Abbiamo altri prodotti sempre per esterni, come questo diffusore, il marrone e brunito che si, diciamo, immerge nella selva. Questo serve per i giardini. Lo puoi nascondere con un suo piolino in plastica dentro le siepi, nel terreno e lui ti va a sonorizzare ambienti esterni. Un'altra cosa invece che rampiamo per l'ambiente domestico sono queste nuovissime surround bar dove riusciamo a conferire al televisore una qualità sonora molto superiore e questa è la più sottile che esiste sul mercato in questo momento, per esempio. Un altro prodotto di cui andiamo assolutamente fieri è questi sub wireless, questa gamma di sub wireless o questo diffusore qua che riesce a replicare sempre con tecnologia wireless tutti gli effetti dei canali posteriori in un unico oggetto. L'oggetto di cui guardo particolarmente fiero, ho importato direttamente dall'America, questa è un'azienda chiamata Perfect Puff. L'azienda amata è la PPC, una delle più grosse produttrici di cavi. produce cavi anche per la Crestron, ha 60 anni di esperienza nei cavi coassiali per il broadcasting. Questi hanno inventato un cavo HDMI a serraggio, molto semplice, che una volta inserito nella femmina non si stacca. Quante volte avete dovuto assistere il vostro cliente, per cui la televisione non vi ha chiamato nella metà della notte perché la televisione non andava, era solo l'HDMI di Skype del preamplificatore che si era staccata, perché come sappiamo l'HDMI ha un serraggio meccanico veramente limitato, quasi peggio, della temibile SCART di qualche anno fa. Questi cavi hanno una costruzione interna che è veramente di altissimo livello e qui li possiamo vedere confrontati con un cavo HDMI standard. Questa realizzazione tecnica con questa schermatura eccezionale permette delle prestazioni irraggiungibili per tutti gli altri cavi HDMI. Noi garantiamo fino a 15 metri in tratta unica una risoluzione di 4K. Quindi anche qui a Topalio abbiamo visto tanti espositori che promuovono i proiettori di nuova generazione 4K. Questo è il suo apparello ideale. Questi cavi sono HDMI 1.4A 3D compatibili, canale Ethernet di ritorno, 4K di risoluzione fino a 15 metri e addirittura questa realizzazione così elevata permette degli spazi colori più ampi. Vera leggenda in America, JL Audio. JL Audio, qui abbiamo portato la divisione marina di cui siamo distributori ufficiali per l'Italia e questi sono veramente degli oggetti con una qualità di materiali e dell'assemblaggio unica. Noi qui garantiamo prestazioni indeteriorabili nel tempo. Indeteriorabili nel tempo. Queste plastiche non risentano dell'esposizione alla luce solare, non ingialliscano e una qualità high-fi anche nelle stelle delle barche. Siamo gli unici veramente che possiamo garantire delle prestazioni di alta fedeltà audio anche sulle stelle delle barche. Abbiamo woofer, abbiamo coassiali e abbiamo amplificatori. Queste sono le varie declinazioni estetiche con cui vengono realizzati questi diffusori. Questa gligna noi la chiamiamo un classic grill. Abbiamo una gligna invece molto aggressiva per barche più sportive, invece chiamiamo sport grill. Ogni diffusori può essere realizzati in colorazione titanium black o wild.